Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461. Paolo, bastano i tre atti per definire la drammaturgia. La struttura in tre atti è probabilmente quella più diffusa per raccontare una storia e la vediamo sempre in moltissime forme d'arte e in moltissime forme di narrazione. La si può ritrovare ovviamente nei film, la si può ritrovare anche all'interno di spot pubblicitari o in tantissime altre narrazioni, oltre naturalmente al teatro. Ma certo non esaurisce tutte le possibili forme drammaturgiche e ce ne sono tantissime. Io posso qui provare a dirne qualcuna, le prime che mi vengono in mente. Per esempio c'è la storia circolare, un racconto che parte da un'immagine o da un pensiero e poi dopo tutto lo sviluppo ritorna alla fine su quella stessa immagine o su quel pensiero. Il più delle volte nel finale c'è qualcosa di molto differente che è cambiato dall'inizio. E poi c'è la storia a flashback. Un personaggio magari viene visto alla fine di una storia e la vicenda è ricostruita con un lungo flashback oppure con dei flashback successivi che ci rivelano lo sviluppo della trama mentre ogni tanto rivediamo il personaggio. Si può cominciare dalla fine, partire dall'ultimo avvenimento e poi risalire all'indietro rivelando i misteri e le sorprese della narrazione momento dopo momento. Ci sono le versioni multiple per esempio. Ecco una storia anche breve che ha semplicemente uno sviluppo quasi poco importante che però viene vista e raccontata da tante persone differenti e quindi ognuna dà una propria versione della storia. Anche se la storiella è molto piccola puoi fare dei giochi interessanti. Puoi utilizzare invece il montaggio alternato. Alcuni avvenimenti li vedi che si sviluppano perché c'è un personaggio e poi cambi pagina c'è un altro personaggio che ricomincia e un po' l'uno e un po' l'altro portano avanti la storia. Ce ne sono tantissimi. L'importante è che l'autore però non sovrapponga la struttura drammaturgica al personaggio. Deve esserci una specie di fusione e cioè deve trovare la forma migliore proprio per quel personaggio lì che in genere è il protagonista. E allora quasi sempre bisogna lasciarci dire da lui che tipo di storia preferisce. Quasi facendogli una specie di domanda precisa. Tu vuoi una storia in tre atti oppure no? Ebbene vi sembrerà incredibile ma quasi sempre il personaggio risponde e ne sa più di noi. Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.